SINISTRA 2 SINISTRA 4 20 per tornante sinistro 2 ACCENNO SINISTRO 30 tornante destro 2 TORNANTE DESTRO 2 150 DESTRA 3 2 tempi DESTRA 3 2 tempi ACCENNO SINISTRO DESTRA 4 E SINISTRA 2 PER DESTRA 2 LUNGA SINISTRA 2 PER DESTRA 3 SPORCO SPORCO TORNANTE SINISTRO 1 ACCENNO SINISTRO PER DESTRA 1 DESTRA 3 SINISTRA 4 DESTRA 4 PER SINISTRA 3 20 DESTRA 4 DESTRA 4 50 TORNANTE SINISTRO 1 ACCENNO SINISTRO 50 TORNANTE DESTRO 1 ACCENNO SINISTRO PER ACCENNO SINISTRO PER ACCENNO SINISTRO PER DESTRA 5 PER SINISTRA 4 SINISTRO SCIVOLA CHIUDE 100 DOSSO ATTENZIONE ACCENNO DESTRO PER TORNANTE SINISTRO 1 30 ALPIVIO TORNANTE DESTRO UNO TUTTO SCONNESSO QUA SINISTRA 5 PER DESTRA 5 TUTTO SCONNESSO TUTTO SCONNESSO ATTENZIONE PER ACCENNO SINISTRO ALLA CASA SINISTRA 3 30 DESTRA 3 LUNGA ALLO STOP DEI MARMI DESTRA 2 ATTENZIONE QUA DESTRA 2 ATTENZIONE 50 SINISTRA 6 50 DESTRA 4 DESTRA 4 QUA DESTRA 4 PER SINISTRA 4 PER DESTRA 6 30 DESTRA 3 CHIUDE QUESTA CHIUDE 20 DESTRA 3 PER SINISTRA 4 PER SINISTRA 3 PER DESTRA 4 PER SINISTRA 3 DESTRA 4 DESTRA 4 ACCENNO SINISTRO AI BIDONI DESTRA 6 ACCENNO SINISTRO 30 SINISTRA 4 LUNGA PER SINISTRA 4 SUBITO BIBIO ATTENZIONE QUA ATTENZIONE QUA DESTRA 1 DESTRA 1 DESTRA 1 PER DESTRA 5 AL BAR SINISTRA 3 LA CHIESA SALE DIVENTA SINISTRA 2 TUTTO SPORCO QUA ACCENNO SINISTRO PER DESTRA 4 PER SINISTRA 4 SUBITO SINISTRA 3 DESTRA 3 SPORCO ACCENNO DESTRO LUNGO PER SINISTRA 4 LUNGA 100 AL LA CASA SINISTRA 2 AL REI CHIUDE QUA AL REI CHIUDE QUA 50 DESTRA 3 30 BUCHE STA A SINISTRA QUA SOTTO SINISTRA ACCENNO SINISTRO 30 DESTRA 3 GIRA TAGLIA C'E LA GHIAIA SPORCO ACCENNO SINISTRO ACCENNO SINISTRO ACCENNO DESTRO SUBITO SINISTRA 1 QUA A LA CASA SINISTRA 1 QUA DESTRA 5 PER SINISTRA 5 20 SINISTRA 3 PIANO L'ACQUA PER DESTRA 2 SUB SI APRE SU IL PONTE APRE QUA 100 DOSSO PER DESTRA 3 ACCENNO SINISTRO PER DESTRA 6 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 50 DESTRA 2 SUBDOSSO QUA DESTRA 2 QUA SUBDOSSO 200 A VISTA CASE ATTENZIONE ACCENNO SINISTRO SPORCO MURO DESTRA 2 LA IN FONDO SPORCO DESTRA 2 50 ACCENNO SINISTRO 40 SINISTRA 3 LUNGA CHIUDE QUESTA LUNGA CHIUDE QUESTA Non ci fa paura no? Scusa scusa LUNGA CHIUDE PER SINISTRA 3 LUNGA LUNGA 40 AL BIDONE ASSENTO SE CHE' AL BIDONE? SINISTRA 3 LUNGA SINISTRA 3 ACCENNO SINISTRO 50 DESTRA 5 20 SINISTRA 3 PER DESTRA 3 SINISTRA 2 TAGLIA DESTRA 3 DESTRA 5 SINISTRA 2 TAGLIA E' L'ho questo? Sì PER DESTRA 5 PER SINISTRA 3 PER SINISTRA 6 PER DESTRA 3 NON TAGLIARE TAGLIARE 20 DESTRA 3 DESTRA 3 50 SINISTRA 5 PER DESTRA 3 20 SINISTRA 3 DESTRA 5 LUNGA 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 questa 50 E' dritta E' dritta vai DESTRA 5 LUNGA 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 E' questa E' questa 50 adesso qua che le case ok 50 fra le case SINISTRA 3 LUNGA SINISTRA 3 PER DESTRA 5 SINISTRA 5 ACCENNO DESTRO PER SINISTRA 5 ACCENNO DESTRO PER SINISTRA 3 FINE SINISTRA 3 FINE SOBRIED ARENDE UNBOS E'